Adesso vi faccio vedere una cosa, ci sono 50 gradi, io lavoro, e lui guardatelo, è là che parla che mi prende in giro. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video dei radiocomandati, buongiorno a tutti, oggi siamo un po' addormentati in pista, vediamo se la Hobitech finisce in giro. Ma sì, sì. Questa è la macchina di pelo numero uno naturalmente. Questa è la macchina di Lupin. Questa è la macchina di Lupin. E' la macchina di Lupin. E' la macchina di Lupin. Sembra quasi professionale. Sai perché? Perché ho tolto la pellicola ieri. E' la macchina di Lupin. 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 Stanno partendo Adesso andiamo a fare una bella ripresa della partenza delle nitro Stanno partendo Stanno partendo Stanno partendo Devo fare il recupero Quindi vado a recuperare le macchine Dopo la mia qualifica Esatto, attenzione a non andare Non spezzare gli occhi Il livello di sudorazione è al massimo Io sono già finito Io ho il sottotetta Dobbiamo ancora cominciare Adesso tocca a noi Abbiamo già mangiato un cornetto Caffè? Io ho bevuto già un litro d'acqua Ok, io tiro fuori una birra Adesso Alla prossima Alla prossima Ecco la personificazione E' un uomo che ha fretta Arrivati a questo punto Arrivati Arrivati a questo punto Ringraziamo la pista di camminato Camminato modellismo Quanta roba raga Ci sono i ragazzi Thomas, Sandro, Katia e Nicolas Che sono ancora immersi La Katia sta ancora Sbocciando panini Ho preso un ghiacciolo Mentre invece Thomas, Nicolas e Sandro Sono ancora impegnati Con la direzione gara Però siccome il monale deve farsi Due ore e mezzo di autostrada Come al solito ragazzi Per fare chilometri Grazie a tutti Ricordatevi Link in descrizione Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Io non faccio più un cazzo Ma in pensione ormai Oggi ho lavorato su lui Tanto lui è arrivato anche prima di me Io lo sono ritirato Cazzo Considerazioni sulla Hobitech Le vedrete presto sul canale Assolutamente si Ci vediamo mercoledì in live ragazzi Ciao a tutti Adio piacendo Alla prossima Ciao